Il ritorno di Giuliana Tambaro alla guida del calcio femminile in Campania può favorire l'intero movimento regionale. Valentina De Risi accoglie positivamente gli esiti delle elezioni per il comitato regionale LND. Servirà un duro lavoro per far crescere il calcio in rosa nella nostra regione, già a partire dai settori giovanili. Poi spazio al suo santegidio, reduce da una straordinaria annata d'esordio in un campionato nazionale, chiusa ben oltre le più rose aspettative, con numeri eccezionali. Infine un immancabile chiosa e doverosa su un pizzico di giallo blu alla Euro Cup di beach soccer femminile con la presenza a suon di gol del capitano Giulia Olivieri. C'era bisogno di questa continuità con Giuliana, sono assolutamente contenta, è la persona giusta, ha fatto tanto per il calcio femminile, sicuramente non in un ambiente proprio facile, per non dire ostile, lei è una che non ha mai mollato, ha subito determinate situazioni che non so qui a rimarcare ma io sono stata la prima di incoraggiarla ad andare avanti perché il calcio femminile ha bisogno di donne come lei e credo che sia la persona giusta, il posto giusto, spero che possa lavorare finalmente nel modo che lei desidera. Ulteriore spazio promozionale al calcio femminile ma anche dare un input in più alle società per promuovere il movimento in rosa a partire dai settori giovanili. Assolutamente, è fondamentale, senza la base la piramide non può mai crescere, quindi sicuramente il settore giovanile è la base di tutto, noi come Sant'Egito femminile ci puntiamo tantissimo ma sul territorio non è facile, adesso spero che con l'aiuto della federazione ma soprattutto dei mondiali, di questa grande pubblicità che il calcio femminile sta avendo grazie alla nazionale, a Sky e alle società professionistiche, i genitori e l'ambiente possa finalmente riconsiderare il ruolo della donna anche nel calcio. Dalle tinte azzurre al giallo blu, a casa tua il Sant'Egidio femminile è un esordio in un campionato nazionale che è stato, non dico ben oltre le tue aspettative, è stato davvero eccellente con qualche difficoltà iniziale dovuta a problemi di ambientamento con la nuova categoria, poi però sono venuti fuori i numeri, è venuta fuori la bontà del lavoro infrasettimanale e che si sta facendo da qualche annetto a questa parte. Sì, no, è un campionato ottimo, ottimo, siamo orgogliosissime di quanto fatto, nessuno ci avrebbe scommesso, forse neanche io, è andato oltre le aspettative, però su una cosa non ho mai sbagliato, cioè che il lavoro paga, io e Giulia abbiamo creduto fortemente in questo, le ragazze ci hanno seguito, non è facile eseguire sicuramente il lavoro sia fisico che psicologico a cui sottoponiamo le nostre ragazze, le riteniamo atlete al 100% e chiediamo a loro il massimo, però sicuramente i risultati li hanno pagato e noi siamo felicissime di quanto fatto. Flash su Capitano Olivieri che si è prodotta anche in una gran bella esperienza di beach soccer. Fantastica, non ci facciamo mai complimenti, ci mancherebbe, non è proprio il tipo, però l'abbiamo seguita tutte e lei è felice, già il fatto di vederla così sorridente è stata una grande emozione per noi, si è fatta conoscere in maniera positiva anche lì, mi sono arrivate una grande voce di grandi complimenti nei suoi confronti, è una professionista, non lo dico perché la conosco, ma perché lo è fino in fondo in qualsiasi settore lei approcci, quindi anche lì si è fatta conoscere in maniera positiva, ha dato il suo contributo, ha giocato forse meno di quanto mi aspettassi, però sicuramente media minuti gol altissima. Di futuro parliamo tra qualche settimana? Sì, sì, adesso qualche settimana di pausa e poi lavoreremo per il futuro.